buongiorno a tutti alla doc romolo e buon venerdì a tutti giustamente aspettiamo l'arrivo di teo teo che verso le cinque cinque messe mi deve chiamare che ci mettiamo d'accordo dove vederci nel modo che poi dopo viene qui che ci facciamo un video alla doc e lo saltiamo anche ci si e giustamente mi devono arrivare due pacchi ma mi arriva uno perché ovviamente i corrieri c'hanno sempre da fare il pacco sorpresa mi arriverà domani ma è molto questa la mosca e stiamo sui moschi però oggi mi arriveranno il pesce e i polipetti come quel dell'altra volta bene un sito speciale a marco fratus poverino che sta svolgiando giustamente e sta andando a trovare il suo papà salutiamo sempre marco fratus chiani guerriero salutiamo il manager alessandro e tutti quanti ancora poi salutiamo anche il carissimo cosimo leporale che oggi mi porta il vino ma io oggi sono senza vino troppo sole io oggi oggi sto senza vino e come devo fare qualche cosa devo bere innanzitutto mettiamo la candida bene allora questo qui praticamente è un carpaccio c'è l'interessante ho visto le offerte sono picchiate ho fatto un anno e cinquante allora questo si chiama giannine negrini roast be di girello pronto da cucinare solo 3% di classi senza glutine ma ci metric si chiama siamoynnanozeko cotto e mangiato stove zoOOOO最 luk, luk, cotto e mangiato intendiamo a mettere una specie non nella manca fame con il pezzo north purtroppo purtroppo devo mangiare qualcosa giusto per farvi il video per voi ma come fai il caldo e il caldo non ti va a mangiare è la privacy non è l'inverno diverso ma lo mo ve l'estate non ti va a mangiare il caldo ma che ma che vada per la bia un menù ma che e giustamente mio fratello mi ha dato 5 euro mi ha dato 5 euro il mio fratello e ho fatto 1 euro questa qua la bad questa è andata in un bar sapete quando l'ha pagata questa qua 3 euro e 5 anni battì alla sommaria da Filippo l'amico mio ho pagato 1 euro ma non perché fa per me sta 1 euro è ghiacciato pure il vino mio fratello stasera lo devo portare purtroppo è la vita io non lo voglio più perché mi sono saziato battì fa troppo caldo ragazzi e quando fa scald fa scald un saluto speciale alla doc atilio salta fossi e vincenzo petriccione alla doc poi stasera facciamo il video saluti per tutte le persone che per tutte le persone che mi devono portare dei regali alla doc come teoteo come teoteo il carissimo cosimo le porale e il grandissimo cischi alla doc diciamo che Marco fratus che è il guerriero ha un po' di problemi roba di caso perché sicuramente se ne deve andare di lì e deve andare a dire colpati non so il motivo comunque non è successo niente io lo sento sempre Marco perché è una bellissima persona e niente che vi devo dire di più Marco ti voglio bene a prestissimo se vuoi ti do il mio numero ci segniamo su whatsapp che ti do di muovere l'estate incontriamoci vediamoci ci ressaccia a qualche parte dobbiamo andare facciamo una prittima a casa quale è il problema speriamo che le cose poi si aggiustano sempre e che vi devo dire di più ragazzi io faccio un caldo mamma me stamattina ho pulito dappertutto io quando vengono vengono dei ospiti ospiti che poi non sono ospiti sono fratelli per me sono fratelli più di fratelli io devo far trovare pulito un po' la situazione cioè perché questo qui è un garage ovviamente nelle garage io non è che vivo qua io vivo qua e su la sera mi vedo dei film poi mi trovo il sonno buonanotte e mi ando la mattina stamattina mi sono andato alle 9 a me sicuramente ora dovevo il pranzo perché neanche mi va guardate che ben di dio questo è un ben di dio e neanche mi va perché fa caldo però voi dite ma come Romulo fa caldo e bevi la birra e c'è la fede qualche cosa c'è la fede qualche cosa c'è la fede giustamente ovviamente dono i problemi le temi tutti quanti Marco io che vado da tre mesi e mezzo vado a trovare mia madre mio padre poverino che è cioè e chi è che non c'è problema i problemi ce li abbiamo tutti purtroppo per per fare per fare un'eccezione ai problemi io cercherò sempre di regalarvi un sorriso mi raccomando chi non è iscritto ancora su un canale youtube alla docco Romulo iscrivetevi e chi non è iscritto ancora sulla nuova pagina facebook iscrivetevi alla docco Romulo e chi non è iscritto ancora su instagram alla docco Romulo iscrivetevi pure lì mancano tre giorni giustamente oggi ce ne abbiamo 22 vedete mi ricordi dice bene lunedì da lunedì sera voglio vedervi tutti sulla nuova pagina facebook alla docco perché lunedì sera spacco tutto Brescello ma ma ah dai e nessuno nessuno mi deve disturbare perché se mi disturbano il maestro non voi le persone perché sicuramente qui sono tutti i miei fan e mi amano come mi amate voi così mi amano loro perfetto io vi ringrazio come sempre più di prima vi amerò amici amiche signori e signore ragazzi ragazze fratelli sorelle un brindisi speciale a tutti quanti voi alla docco un brindisi speciale grandissimo a tutto youtube facebook e instagram vi voglio tanto bene alla docco poi un'altra cosa salutiamo ah sì l'abbiamo salutato ieri quel nome sì sì quel nome l'ho salutato perfetto un saluto un saluto speciale a cosimo le polare di nuovo perché è il mio amico e salutiamo anche la bellissima daniela la ragazza di cosimo alla docco ciao daniela vi voglio tanto bene a tutti quanti tutti i miei nemici amici staci perché qui nemici come ho visto io i commenti ci sono commenti buonissimi allora per me i nemici non sono mai esistiti sarà che esistevano i nemici nell'altro canale ma ora non ce l'ho più quel canale questo canale che è ancora meglio di quello di prima perciò i nemici per me o stanno o non ci stanno vi amano lo stesso mi vuole tanto bene scusatemi ma che c'è seco ma dai la la ai ai che c'è seco che c'è seco